Decima giornata di campionato per l'Under 17 di Andrà Zanchetta che accoglie in casa il Venezia per consolidare il primato in classifica. A partire forte però sono i lagunari, progressioni di Peresin che si gira bene e serve con i tempi giusti Scanferlato che solo dal cuore dell'area di rigore batte Stankovic e fa 1-0 per i ragazzi di Soncin quando sono passati solamente 120 secondi. Quindi rivediamo la bella azione di Peresin che trova Scanferlato colpevolmente dimenticato dalla difesa interista, tutto facile per lui mettere dentro l'1-0 del Venezia. L'Inter però non resta a guardare al 23esimo quanto al pareggio, ottima palla recuperata da Oristanio che la smista velocemente su Bonfanti, dribbling secco su Quieto e destro perfetto all'incrocio dei palli dove Bon non può arrivare. Secondo gol in campionato per Nicola Sbonfanti ed è un vero e proprio gioiello, dribbling e poi destro imprendibile all'incrocio dei pali. I nerazzurri che poco dopo sfiorano anche il vantaggio con l'incornata sul calcio d'angolo di Alcides Dias che colpisce a botta sicura ma c'entra in pieno il palo a Bon battuto. Trovato perfettamente sul secondo palo Alcides Dias, palo sfortunato per il centrale difensivo nerazzurro. Inter che parte forte anche in apertura di ripresa, cross di Moretti per il nuovo entrato esposito, colpo di testa perfetto su cui Bon questa volta. E' decisivo, numero uno veneziano protagonista anche poco dopo quando l'Inter ci prova su angolo. Cross di Esposito, la palla è respinta al limite dell'area dove arriva Oristagno che di prima spara dal limite e trova nuovamente Bon con la mano di richiamo sulla sua strada. Il portiere lagunare però deve capitolare a cinque dalla fine quando Verzeni pesca in area Esposito che ci prova due volte. E alla seconda porta in vantaggio l'Inter con il suo decimo gol in campionato, gol caparbio, quello di Sebastiano Esposito di rabbia che porta avanti i suoi meritatamente. E' un Inter che nel finale poi dilaga cross di Moretti, Esposito prova il numero, la palla arriva al limite dell'area per Riccardo Boscolo Chio che di prima intenzione scarica un destro potente e preciso alle spalle di Bon. Secondo gol in campionato per il centrocampista nerazzurro, il gol che chiude virtualmente questo match difficile per l'Inter di Zanchetta con i ragazzi nerazzurri che in pieno recupero calano anche il poker. Angolo di Esposito, Moretti salta più in alto di tutti e questa volta Bon non è esente da colpe sul colpo di testa del terzino nerazzurro. 4-1 Inter, firmato anche Moretti. Dilaga nel finale la squadra nerazzurra dopo aver sofferto nella prima parte di primo tempo. Colpo di testa di Moretti e palla che sfila sotto le gambe del portiere del Venezia. Finisce quindi 4-1 per l'Inter di Andrea Zanchetta che reagisce di carattere iniziale svantaggio e porta a casa tre punti importantissimi che le consentono di salire a quota 25 in classifica consolidando così il primato in classifica. Nella decima giornata di campionato l'Under 16 di Gabriele Bonaccina ospita la SPAL, una sfida molto molto interessante con tantissime occasioni. Bravi subito gli ospiti a sfruttare questa incursione di Digne che trafigge Rovida. Subito in vantaggio quindi gli ospiti con questo colpo di destro da parte di Digne che sorprende anche un po' la difesa nerazzurra. L'Inter ci riprova reagendo subito con Benedetti che di sinistro va a colpo sicuro però il palo nega la gioia della rete. Un colpo fortissimo da parte di Benedetti che a tu per tu con Romagnoli trova questo palo clamoroso. Nella ripresa Sabia lavora bene il pallone in questo caso per Branzini che di piatto destro prova a piazzarla. Palla però a lato, prende un giro ad uscire. Palla quindi a lato. Ancora però l'Inter avanti con Sabia che dà spazio per Branzini che vede Peschetola. La palla però arriva su Gnonto che carica il destro, segna ma l'arbitro fischia per un fuorigioco che rivediamo dalle immagini. Sembrerebbe esserci con Willy Gnonto qualche passo in avanti rispetto al pallone. Qui vediamo ancora Sabia agire sull'auto di destra, palla per Zonotti, cross per Peschetola, piatto sinistro del numero 10 nerazzurro, palla in out. E ancora con questa azione un po' confusa dove l'Inter va in gol ma l'arbitro non si sa come mai annulla e fa ribattere appunto il calcio d'angolo. Rivediamo l'azione, non si capisce bene perché l'arbitro nichi regionale del gol a Willy Gnonto, quindi nuovo calcio d'angolo per l'Inter con il colpo di testa di Casadea da due passi. Non riesce però a incontrare la porta. Nella ripresa ancora spazio per Cappadonna che vediamo pareggiare subito l'incontro con questo bellissimo gol su azione personale. Lancio millimetrico da parte di Willy Gnonto con Cappadonna, tu per tu con Romagnoli, palla da una parte e lui dall'altra con poi il piattone destro per l'1-1 dell'Inter. Spai che però spinge ancora con qualche azione individuale con però Rovida molto attento ma sui sviluppi di questo calcio d'angolo arriva il 2-1 per la Spai con questa incornata perentoria da parte di Faggi su un'ottima prestazione da parte del difensore della Spal. Inter che però sui minuti finali trova questo bellissimo gol ancora con Cappadonna, una girata magistrale. Finisce quindi 2-2 la partita con questo gol bello da vedere e rivedere perché è qualcosa di molto significativo per un ragazzo di questa categoria. Una semirovesciata bellissima che vale quindi il 2-2 finale. Finisce così Inter, Spai per la categoria Under-16. 2-2 il risultato finale. Ospita la Spal, l'Under-15 con la volontà di proseguire quanto di buono ho fatto vedere in campionato. Parte però molto meglio la Spal che dopo solo 30 secondi trova la rete con questo gol bellissimo. Parte di Saiani che porta avanti quindi la Spal. Un gol bello da vedere, rivedere un gesto tecnico apprezzabile con questo sinistro potente e imprendibile per Bonucci. Uno shock per l'Under-15 con la squadra che prova a reagire con questa azione personale da parte di Gatti che si porta il pallone sul destro. Prova a concludere, palla vicino all'angolino basso del portiere. Ancora dalla sinistra per la Mati, fa partire il cross, la testa del difensore arriva poi. Buona vita al volo, arriva la grande risposta di Pezzolato in corner. Su un'azione magistrale però di contropiede da parte degli ospiti arriva anche il raddoppio con D'Andrea che porta il pallone. Si accentra, serve poi la corrente di destra con Tigliano che di sinistro batte ancora Bonucci. 2-0 per la Spal, contropiede da manuale del calcio per gli ospiti che viene concluso con questo bel piattone da parte di Contigliano. 2-0 quindi per la Spal. Uberti con l'Inter che trova e prova a farsi vedere ancora con Gatti che si accenda. Prova il cross per Sarri, spinge Pezzolato, non riesce quindi il tappino vincente. Dicevamo Uberti lavora bene il pallone, serve Motti che carica il sinistro, palla alta sopra la traversa. Altra grande occasione per l'Inter con ancora Sarri in azione personale, carica il sinistro, palla a lato. Sui sviluppi di un calcio d'angolo arriva l'incornata di Cugola, qui vediamo la palla di Pelamatti. Arriva ancora la respinta, il cross di Pelamatti con Cugola che salta più alto di tutti e accorcia quindi le distanze. Uno stacco imperioso da parte del numero 6 dell'Inter con colpevole da difesa della Spal che lo lascia troppo solo. L'Inter che malizzata dal gol ci prova ancora con questa punizione di Pelamatti che trova ancora tu per tu Cugola che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Occasionissima poi ancora per l'Inter con Uberti che lavora bene il pallone, serve benissimo Curatolo che tenta il colpo sul primo palo ma la palla finisce sull'esterno della rete. Nella ripresa il Bomber però non sbaglia su questo lancio lungo di Buonavita, Curatolo da solo contro il portiere, la piazza di destro e arriva quindi il pareggio da parte dell'Inter con ancora un altro gol di Bomber Curatolo che riporta l'Inter sul punteggio di parità. Vediamo il colpo piazzato di destro, bellissimo da parte del numero 9 nerazzurro, ancora l'Inter con Clerici che spizza proprio per Curatolo, si gira bene il numero 9 nerazzurro ma non trova lo specchio. In chiusura spazio ancora per la Spal con questa punizione alla distanza ma non c'è più tempo, finisce 2-2 la sfida tra Inter e Spal.